per l'attaccante grazie a Vizio oggi è un nuovo entrato per altri battuta flottante in sessione di Alessandrini pallazzata a Luizio il posto da parte della formazione di Vignoranzini 9 a 24 cambio rientra a Vettucci e c'è Casti che rientra in questi giorni da un infortunio e gli battiamo i migliori auguri per una prossima stagione un'incasi soddisfazione a servizio alla formazione di Vignoranzini ancora un match point il primo di 15 match point a proverso di Vettucci il primo di 15 match point l'intenzione di Vettucci attacco di Vettucci che fuori fino alla partita del 2019 e la formazione di Vignoranzini di Vignoranzini il 36esimo trofeo Bobby Mastelli di Vignoranzini 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 di Vignoranzini